Allora chi siete? Qual è la vostra proposta artistica e che cosa avete realizzato sino ad oggi? Allora noi siamo il Caso Guevara, siamo dell'Aquila, siamo quattro in quattro ma molto spesso, anzi quasi sempre dal vivo sull'aggiunta anche del basso acustico quindi in cinque. Siamo un gruppo che sostanzialmente come proposta musicale è una specie di contaminazione tra l'elettronica e il cantadorato. Ad oggi abbiamo realizzato infatti un album che è andato sulle piattaforme di musica elettronica e adesso abbiamo appena completato questo progetto invece di musica cantadorato di tensione lo hanno definito coloro che lo hanno ascoltato dove testi e musica per noi sono molto importanti perché noi siamo anche un gruppo che ha un proprio impegno civile. Perché avete scelto Rock Target Italia e cosa vi aspettate da questa esperienza? Ma io perché mi voglio vendicare, almeno io personalmente mi devo vendicare e il motivo lo scopriremo, se lo scopriremo più in là e poi anche perché sappiamo che la manifestazione è importante, tutti conoscono la storia penso di Marlene Kunze che attraverso questa manifestazione hanno conosciuto Maroccolo e da lì poi quello che è successo lo sappiamo tutti. Cosa significa essere un artista oggi per voi? Assai complessa, io penso che sia una via di fuga per molti, una via di fuga ma è anche una, come diceva Lombroso, una forma di alienazione tra l'aspetto, tra la corteccia cerebrale, diciamo l'aspetto più cerebrale e l'aspetto più emotivo, quindi la sensibilità, questo scontro incontro determina a volte la follia a volte anche qualcosa di diverso. Quali obiettivi sperate di raggiungere con la vostra musica? Dove vi immaginate tra dieci anni? Sostanzialmente di essere, di trovare il nostro posto, di trovare la nostra tribù perché la musica oggi secondo noi è un po' così quindi noi ci auguriamo di trovare la nostra tribù, non è necessariamente grande ma di coloro che si riconoscono, ti annusano e capiscono che è anche il loro posto. Cosa dobbiamo aspettarci dalla vostra esibizione a Milano? Beh, a Milano non abbiamo mai suonato in realtà e quindi a Milano siete già, noi viviamo nella provincia, come si suol dire, in una provincia anche di montagna, voi siete avanti, spinti, frenetici, veloci. Da noi vi dovete aspettare di fermarvi un attimo e riflettere un attimo, ascoltarci e poi entrare nel nostro futuro. Per il nostro corso, ascoltarci e poi entrare nel nostro corso, ascoltarci e poi entrare nel nostro corso. Avete avuto modo di ascoltare gli altri finalisti? Se sì, che impressione avete avuto e c'è qualcuno che vi è accolpito in modo particolare? Sì, ho ascoltato tutti gli artisti. In particolare, dalla prima carrellata ho escluso non per un fatto personale, quelli che cantavano in inglese, perché ormai voglio anche capire cosa mi raccontano, non solo sotto il profilo musicale, ma anche sotto il profilo dei testi, che per noi sono fondamentali. Quelli che ho preferito in assoluto sono gli Estetica Profana. Mi è piaciuto molto, so che è uno strumentale, ma mi è piaciuto quell'approccio, mi è piaciuto molto, mi è ricordato i Mucadelic, che io ho amato, prima di Gomorra. E quindi mi sono piaciuto. In generale si vede la vivacità del momento e capisci che prima o poi qualcuno ce la farà. Cos'è che ci rende dei diversi, che ci fa somigliare a degli asceti e ci riflette sulle vetrine anonime dei centri commerciali e ci proietta dalle antenne digitali in campi aperti. Ci protegge dalla furia dei diluvi e ci trasforma nei sciomani di foreste tropicali, poi ci assolve dalle colpe inconfessate, ci solleva da ambizioni oscure e ci nasconde il tempo ed il silenzio negli spari. Ci arresta dalle fughe e precipizi, ci difende dagli avversi astrali, poi ci insegna traiettorie come gesti antichi e ci svela il senso delle curve di elefanti estinti a quei diagrammi estranei. Diserta le illusioni e poi ci invita a rituali e riti ordinari, poi ci sopravvive, poi ci salva, se ci uccide, ci guarisce, se ci morde, se ci ride, urla le stagioni illese, soffia forte sulle nostre notti insonni incendiarie. Grazie per la visione!